Hai necessità di liberarti dalle zanzare? Scegli adesso il prodotto più adatto alle tue esigenze. Vivi in un'area con una superficie di verde di dimensioni grandi o vivi in un'area di dimensioni di superficie verde medio o piuttosto hai bisogno di un prodotto che ti risolve il problema delle zanzare in dei campeggi gazebo o di spazi più ridotti?